Il Governo risponde in aula alla Camera sulla chiusura dell'A3 ad un'interrogazione del deputato Sebastiano Barbanti del gruppo Alternativa Libera e ad un'altra interrogazione di Dorina Bianchi di nuovo centrodestra sulla mobilità nella regione del sud. Per il Ministro, dopo 109 giorni dal crollo del viadotto, la riapertura è subordinata al lavoro della magistratura che in queste ore dovrebbe decidere il dissequestro dell'aria riconsegnandola all'ANAS per avviare i lavori di messa in sicurezza. In aula, il Ministro ha spiegato che il sequestro da parte della Procura di Castrovillari, tuttora vigente, limita l'azione di ANAS. Solo dal 27 maggio è stata possibile passare alla rimozione delle macerie. Il 12 giugno ANAS ha consegnato la documentazione tecnica che la Procura ha richiesto e questo è ora in corso d'esame dei partiti del Tribunale. L'esame dovrebbe concludersi in queste ore e a questo punto la Procura di Castrovillari, in un colloquio costruttivo con ANAS, potrà autorizzare la ripresa dei lavori, ha aggiunto il Ministro. Ed è difficile che in tempi brevi si possano trovare soluzioni alternative efficaci. Abbiamo messo 27 milioni per poter modificare la viabilità alternativa ed è in corso di studi avanzato il tavolo per rendere di nuovo nazionale la strada statale 19 delle Calabrie che è in stato di abbandono così come si sta valutando il trasporto merci via nave a proseguito del Rio elencando le azioni messe in campo dal Governo Centrale per alleviare la situazione sulla 3. Del Rio, inoltre ha ricordato anche l'impegno del Governo a favore della messa in sicurezza della strada nazionale Ionica con 890 milioni nella sua replica Barbanti, ha sottolineato che degli 8 miliardi spesi per l'ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria alle aziende calabresi è arrivato zero e anche gli operai che vengono impiegati negli appalti vengono per il 60% da fuori della regione, soprattutto del nord.